nell'area messinese anche se le conclusioni non figuravano nel loro repertorio. Era un Cagliari che cresceva oppure il Messina che tirava il fiato? La risposta la dava al 24esimo il capitano siciliano, il libero Bellopede che con la complicità dei difensori rosso-blu si inseriva in aria suggerendo a Venditelli un assist di millimetrica precisione e per Bellopede era uno scherzo portare a due il vantaggio per la sua squadra. A questo punto come spesso accade la partita non aveva più storia.